Giovedì 2 agosto a Lido di Camaiore, notte blu. Abbiamo qui il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, che ci illustra un attimino il tema e gli appuntamenti. Beh, intanto questo è un appuntamento che tutti gli anni caratterizza l'estate di Lido di Camaiore, un appuntamento importante che attrae più e meno giovani sul nostro territorio, con un evento che inizia nel tardo pomeriggio e va avanti fino a notte fonda. Un evento che quest'anno ha un tema particolare, che è quello dei temi ambientali e delle energie rinnovabili, da qui poi parte anche l'idea della nostra amministrazione di caratterizzare la notte Lido blu appunto con dei temi che di anno in anno ne faranno l'identità e la ricchezza. Possiamo dire che il comune di Camaiore nella storia è sempre stato in primissima fila per quanto riguarda le manifestazioni legate all'estate. Ci sono altri appuntamenti importanti da ricordare? Beh, sicuramente nell'entroterra ci sarà in questi giorni, nella settimana di Ferragosto, le follie di Ferragosto, le follie d'altri tempi, che quest'anno si associano anche appunto al fattore, diciamo così, religioso e quindi al fatto che si festeggia la santa della chiesa principale del centro, che è Santa Maria Assunta. E poi ovviamente continuano tutte le varie manifestazioni fino alla fine dell'estate. Quindi ricordate, l'appuntamento è giovedì 2 agosto, praticamente da che ora? Circa dal tardo pomeriggio dalle 6 e mezzo, 7 fino a notte fonda. E vi posso garantire un divertimento a 360 gradi. Grazie. Grazie. Eccoci con l'assessore Carlo Alberto Carrai, assessore al turismo del Comune di Camaiore, che ci presenta questa nuova edizione della Notte Blu di Camaiore, giovedì 2 agosto. Innanzitutto c'è un tema. Allora, sì, il tema di quest'anno è l'ecosostenibilità. Mi preme ringraziare il Consorcio di Promozione Turistica, che poi è il coordinatore generale di tutto l'evento. E' stato mantenuto il format dell'anno scorso, per cui sette piazze con sette temi diversi. Si parte dallo sport, dove parteciperà la SCOT, l'azienda internazionale di biciclette, parteciperà il basket, parteciperà la scherma. Per spostarci alla Piazza della Vita, che gli anni scorsi ha visto, come quest'anno, la partecipazione di tutte le forze di polizia, e non solo, compresa anche la SALT, la società autostrade, per la sicurezza stradale e il basso impatto ambientale. Si prosegue nella Piazza della Moda con abiti ecosostenibili e i settori delle aziende nazionali e internazionali più importanti che presenteranno insieme alle loro linee anche le linee ecosostenibili. Ci spostiamo nella Piazza dell'Arte, l'evento dell'arte è talmente importante che l'organizzazione ha deciso di spostarlo poi nella Galleria Europa e dopo anche qui in centro a Camaiore per le Foglie di Ferragosto, che saranno circa dieci giorni dopo la Notte di Do Blu. Piazza della Cultura, dove verranno presentati dei libri, libri a chilometro zero e anche libri di artisti importanti, di scrittori importanti, che parlano di ecosostenibilità. Ci sarà tutta la presentazione di quello che vuol dire oggi ecosostenibilità, per cui edilizia ecosostenibile, per cui consumi ecosostenibili, guida, macchine ecosostenibili e tutto questo concluderà nella Piazza della Musica, dove saranno presenti nomi importanti e di risonanza che intratterranno dalle 11 fino a Notte Fonda, o diciamo pure l'alba, tutte le persone che ci saranno. Ma tutto questo, la special guest di questo evento, è stata individuata in un personaggio molto simpatico che è Testa di Paglia. Testa di Paglia è un personaggio immaginario, uno spaventapasseri, che il dottore Colini ha costruito per interessare, ha fatto nascere, per interessare i bambini delle nostre scuole e i bambini, i turisti che vengono qua, per interessarli e coinvolgerli nella spiegazione di tutto quello che è il nostro territorio e tutta la parte degli animali, sia terrestri che marini, del nostro territorio. Per cui, ecco, l'evento, il gran maestro di questo evento sarà Testa di Paglia. Per cui invito tutti a essere giovedì 2 agosto, verso le 17, ci dovrebbe essere l'inaugurazione al Pontile. Dico verso perché tra la chiusura delle strade, verrà chiuso tutto il Viale a Marea, c'è sempre stato, visto che è la quinta edizione, c'è sempre stato quei 10 minuti, 15 di ritardo, come succede quando si lavora a braccio. Però è, ecco, verso le 17, 17.30 al Pontile di Rido di Camaiore, invito tutti, ci sarà l'inaugurazione per andare avanti. E la cosa principale è che, come tutti gli anni, la notte di Rido Blu prende dai bambini ai nonni, dando intrattenimento a tutto e utilizzando un particolare temi, anche totalmente diversi tra loro. Ecco, giovedì 2 agosto, quindi, Lido di Camaiore, questa notte meravigliosa, che tra l'altro prenderà il via, come abbiamo già sentito dalla parte dell'assessore, nel pomeriggio e si protrarrà fino a notte inoltrata, praticamente dopo mezzanotte. Sì, sì, assolutamente. Dal programma che ho, i concerti e le presentazioni saranno fino verso le 2, dopodiché partirà una notte di DJ per arrivare a coinvolgere anche veramente i più giovani, che però gli piace la notte, gli piace la sera e questa vuole essere l'ennesima volta dimostrare che in Versilia, perché è un evento ormai a livello Versilia, è come recettività, nel senso che vengono da tutta la Toscana e non solo. Però, diciamo che viene focalizzato l'occhio di bue sulla Versilia, su questo evento, che è l'unico evento così importante, che si estende su un chilometro e otto, per 20 metri di larghezza, totalmente gratuito e per cui diciamo che mantenere questo evento qui, anche in questi momenti di crisi, anche per le amministrazioni comunali, è stato veramente un grosso sforzo da parte degli organizzatori e nuovamente li ringrazio perché ci hanno dato veramente una grossa mano. Vorrei precisare, carissimi amici, che se avete la carta, la bonus card, venite alla Notte Blu di Io di Camaiore, c'è una sorpresa che vi aspetta. Grazie. Siamo nel mitico pontile di Lido di Camaiore, questo nuovo pontile al centro proprio del lungomare di Lido di Camaiore, dove giovedì 2 agosto si svolgerà la Notte Blu, un appuntamento che non dovete perdere se siete da queste parti, ma mai riveniteci perché ci saranno tante possibilità di divertimento. Nella piazza Matteotti, e cioè la piazza della moda qui a Lido di Camaiore, nella Notte Blu, dalle ore 18 fino a mezzanotte e notte inoltrata, vi aspettiamo con la vostra bonus card. Perché? Perché ci saranno delle sorprese interessanti. In piazza Matteotti, il giovedì 2 agosto prossimo, in occasione della Notte Blu. Portate con voi la bonus card, non si sa mai. Grazie a tutti.